Bene, allora, l'ordine del giorno reca l'audizione del rappresentante del Consiglio per la ricerca e l'agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il cosiddetto CREA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7987 Mongello, 71045 Labbate, 71054 Faenzi 71068 Zaccagnini sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro, avverto in via preliminare che in base a nuove disposizioni adottate dalla giunta per il regolamento le addizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera con il consenso degli auditi, mentre non è prevista alcuna presocontazione, richiamo quindi la sua attenzione su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove non vi sia appunto obiezione. Prendo atto che non vi sono obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. È presente il dottor De Vita, vice direttore ricercatore presso il medesimo centro a cui passerei immediatamente la parola. Prego. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente appunto per l'invito, grazie alla Commissione per aver ritenuto utile ed opportuno sentire il CREA, come sapete, il CREA ha delle strutture che si occupano specificatamente di ricerca e sperimentazione sul grano duro. Dunque partiamo dalle risoluzioni. Chiaramente condividiamo le premesse di tutte e quattro le risoluzioni. L'analisi dei punti di forza, di debolezza ormai sono note. La polverizzazione aziendale, la scarsa organizzazione della produzione sono elementi noti. È necessario ridare fiducia e sostegno a questo settore e il contributo che vogliamo dare in questo senso perché quello del fumento duro e della pasta, il prodotto finale più importante, è chiaramente un fiore all'occhiello dell'agroalimentare italiano. I livelli di prezzo sono molto bassi, quindi c'è uno stato di agitazione che riguarda tutti i livelli della produzione e noi lo avvertiamo perché chiaramente siamo parte del sistema sia per quanto riguarda gli agricoltori ma anche il resto dell'industria di trasformazione comunque ne risente. Ma non dimentichiamo che il frumento duro e la pasta è sotto attacco da anni perché la criminalizzazione che viene fatta del glutine contribuisce in qualche misura a limitare il consumo di pasta e gli ultimi dati in qualche modo ci danno conferma. Per cui è necessario ridare fiducia e sostegno a questo settore. Molto brevemente cercherò di concentrare l'attenzione cercando di approfondire il discorso legato alla qualità del frumento duro con particolare riferimento al tenore proteico. È un tema centrale perché anche in Italia, contrariamente a quello che era successo negli anni precedenti, da parte del mondo produttivo c'è una certa attenzione nei confronti di questi aspetti. Le caratteristiche qualitative sono diventate un aspetto della produzione e ne sono consapevoli anche gli agricoltori. Questo è stato possibile perché negli anni la tecnologia ha permesso un avanzamento delle tecniche agronomiche, si coltiva meglio. Oggi la tecnica culturale del frumento duro in alcune zone dell'Italia è diventata il fiorello e gli agricoltori sanno benissimo come coltivare. È chiaro che fanno i conti e cercano di ottimizzare il tutto. Ed è anche se è reso possibile perché c'è stato un grosso impegno in termini di ricerche, di messa a punto di nuove varietà che rispondono alle esigenze dell'industria di trasformazione e del consumatore. Dunque quando si parla di qualità nel frumento duro, oggi il riferimento principale è al contenuto proteico. Al contenuto proteico che è un parametro importante per la tecnologia, per fare una pasta buona ci vuole proteina e una buona proteina. Ma è diventato un riferimento anche merceologico. Il frumento oggi viene venduto a livello internazionale anche in funzione del tenore proteico. I grossi paesi produttori lo hanno capito da tanti anni, hanno fissato dei range e delle classi di qualità producono in funzione delle classi di qualità. Gli esempi sono tanti, sono molto conosciuti. In Canada il frumento duro viene classificato in cinque classi, in Australia in tre classi, negli Stati Uniti in tre classi. Questo significa che la classificazione è già un indice che il grano non è uniforme, è variabile, per cui viene collocato in classi differenti. E la suddivisione in questi paesi è possibile perché è stato tutto creato in funzione dell'esportazione. Quindi il referente sono i paesi importatori, quindi sono i clienti. E quindi viene organizzato in questo modo. C'è un sistema che coordina questo tipo di sviluppo. In Italia questa classificazione purtroppo non c'è. E quando si parla di qualità in frumento duro in Italia si parla di media, quindi non c'è la differenziazione per classi. Ma se facessimo una differenziazione per classi avremmo la stessa situazione che abbiamo in questi paesi. Cioè una differenziazione appunto per livelli di proteina crescente, scalare, diciamo da valori più bassi a valori più alti. Tuttavia, siccome appunto, come è riportato nelle risoluzioni, non c'è una strategia organizzativa per quanto riguarda lo stoccaggio, le partite più buone vengono mescolate con le partite più scadenti e alla fine parliamo di valore medio. E questo chiaramente indebolisce l'offerta produttiva. Per cui è fondamentale organizzare l'offerta identificando delle classi produttive. Ma che in Italia si produce qualità, che si sappia produrre qualità, questa è indiscusso. La dimostrazione negli ultimi anni sono rappresentati dei contratti di filiera. Sia dei contratti di filiera, dei contratti di coltivazione che gli accordi di filiera. È un sistema che funziona in cui si perseguono l'obiettivo comune, gli agricoltori mettono in campo tutto il loro know-how per assicurare gli standard qualitativi che l'industria di trasformazione richiede e chiaramente c'è un giusto prezzo, un eco prezzo per rimunerare l'agricoltore per gli sforzi che fa. E in questo modo l'Italia con questo tipo di contratto è in grado di produrre frumento di altissima qualità, paragonabile con le classi di qualità più importanti nel mondo. Quello però su che è importante riflettere quando si parla di tenore proteico è la forte influenza che ha l'ambiente di coltivazione sull'espressione di questo carattere. E quando parlo di ambiente di coltivazione faccio riferimento sia alla località ma anche al clima, quindi le precipitazioni principalmente, e alla tecnica culturale. E chiaramente il contenuto proteico è uno di quei caratteri fortemente influenzato dall'ambiente di coltivazione. Per paradosso se in Italia si coltivasse una sola varietà di grano d'oro ci sarebbe comunque la variabilità proteica che noi abbiamo attualmente, nonostante coltivando tutte queste varietà, proprio perché l'effetto dell'ambiente è fortissimo sul contenuto proteico. Chiaro che la tecnica culturale, sul clima ci possiamo fare ben poco, ma con la tecnica culturale possiamo intervenire. Come? Con tanti strumenti. La prima è quella delle rotazioni. Il piano delle proteine che ho letto in una risoluzione è fondamentale. Se vogliamo migliorare la qualità del frumento duro dobbiamo lavorare sulle precessioni, sulle rotazioni. E l'introduzione delle leguminose importanti che facciano fare reddito all'agricoltore, che migliorino la qualità del terreno, del suolo, hanno ricadute strategiche e importanti sulla qualità del frumento duro. Purtroppo l'agricoltore per alcune di queste specie di leguminose trova difficoltà a recuperare varietà, perché mentre per il frumento duro abbiamo una tradizione consolidata di aziende sementiere che sviluppano materiali genetici, nel campo delle leguminose per alcune specie, perché per altre comunque il crea si sta dando da fare. Per alcune specie siamo fermi a 50 anni fa come sviluppo varietale. Per cui è necessario per migliorare il frumento duro lavorare anche sulle rotazioni. Esperienze decennali ci confermano che dosi crescenti di azoto, quindi intervenendo con la concimazione, noi siamo in grado di aumentare in modo significativo il contenuto proteico della granella. Tuttavia, se 100 kg di azoto, che è la dose media che viene per esempio somministrata nel tavoliere delle Puglie, se 100 kg di azoto sono sufficienti in un'annata agraria per assicurare un livello di proteine di 14,5%, l'anno successivo possono non essere sufficienti 200 kg di azoto per effetto dell'andamento climatico. Quello per esempio che è successo in questa annata agraria. Per cui, a fronte di un impegno economico da parte dell'agricoltore nel somministrare più azoto, non è garantita lo standard proteico negli anni, perché dipende dalle condizioni climatiche. Quindi è necessario remunerare giustamente l'impegno dell'agricoltore tenendo anche presente di questi limiti che sono legati al discorso del tenore proteico e definire delle classi di qualità. È arrivato il momento di farlo anche in Italia, di farlo in modo condiviso con tutti gli attori della filiera, perché poi ognuno deve appunto proporre quelli che sono le proprie esigenze. E dobbiamo tener conto di un'altra cosa. Per fare una pasta di buona qualità non sono sufficienti solo le proteine, non è sufficiente solo il contenuto proteico, cioè la quantità di proteina. Per fare una pasta di buona, di ottima qualità è necessario avere una proteina di buona qualità, quindi un glutine tenace. Ed è quello che abbiamo cercato di fare con il miglioramento genetico in questi anni, cioè cercare di rendere più lavorabile il glutine della semola. Per cui si possono ottenere delle paste di ottima qualità anche con livelli proteici medi, ma con un'eccellente qualità del glutine. Quindi non esaspererei eccessivamente il discorso legato al tenore proteico. L'esempio più classico è legato a questo esempio. Gli scarti della selezione, che normalmente derivano dagli impianti di selezione delle sementi, forniscono una granella che ha un tenore proteico che in alcuni casi supera i 20%, ma quella non è una proteina buona per fare la pasta. Perché? Perché non è di qualità buona. Noi ci serve una pasta con una semola con una qualità del glutine molto alta. Quindi sono importanti le proteine, ma è importantissima la qualità della proteina. Così come oggi sono importanti altri aspetti della qualità. I requisiti igienico-sanitari, per esempio. Sentiamo parlare spesso di micotossine, di accumulo di metalli pesanti, di residui di pesticidi, di erbicidi. Sono tutti parametri importanti che il consumatore oggi tiene in considerazione e che bisogna prendere in esame. È importante il requisito di tracciabilità e rintracciabilità, perché il consumatore dà un valore a questo e quindi oggi abbiamo gli strumenti per poterlo fare. E quindi cosa fare? Nel documento che abbiamo consegnato abbiamo diviso due livelli. Uno è quello dei servizi, che si potrebbero offrire al sistema della filiera, attraverso il piano nazionale cerealicole, che in parte, per alcuni aspetti, è già stato negli anni passati in parte applicato. Servizi da fornire a supporto della filiera. Uno, le liste di orientamento varietale. È uno strumento importantissimo, perché aiuta gli agricoltori a scegliere nelle varie località molto diversificate, purtroppo e per fortuna in Italia, la varietà giusta in grado di esprimere il potenziale migliore, sia produttivo che qualitativo. Una rete organizzata di strumenti per l'identificazione della qualità della materia prima. Il CREA ha fatto e fa ancora da riferimento per lo sviluppo di curve di calibrazione, per cui il 13% letto a Lodi equivale al 13% letto a Caltanisetta. Quindi la calibrazione degli apparecchi è fondamentale per organizzare la rete di stoccaggio. Altra sorpresa importante è il monitoraggio fitosanitario. Alcuni progetti sono stati finanziati in passato, bisogna dare continuità, perché l'unico modo che abbiamo per monitorare questo delicato aspetto, perché il problema delle micotossine, volevo ricordare, non è soltanto un problema dei paesi tipo il Canada, è anche purtroppo un problema italiano e quindi c'è molto da lavorare, quindi il monitoraggio è molto importante. E l'altro dobbiamo sfruttare i sistemi di trasferimento delle innovazioni. Il CREA ha sviluppato una piattaforma, si chiama Agritransfert, in cui tutte le innovazioni sono consultabili da parte del mondo agricolo per poter intervenire. Questo per quanto riguarda i servizi. L'ultima cosa riguarda le sfide della ricerca. Qui noi siamo convinti che la ricerca può fare molto. Chiaramente la politica deve prendere le decisioni, ma la ricerca può fare molto. Per aiutare a standardizzare le produzioni e le qualità delle produzioni, a mettere in campo tutta una serie di varietà che siano in grado di resistere alle malattie, perché sviluppando materiali resistenti in questo caso alla fusariosi, ma anche alle altre malattie, noi siamo in grado di mettere a disposizione dell'agricoltore una innovazione a basso costo, in grado di ridurre i costi di produzione. Oggi nel centro nord Italia fanno almeno due trattamenti per la difesa delle malattie fungine. La difesa è diventata una pratica corrente anche nel sud Italia, con i cambiamenti climatici che ci sono. Quindi lo sviluppo di queste varietà aiuterebbe a ridurre i costi e a mettere a disposizione delle industrie un prodotto in grado di assicurare gli standard. Abbiamo gli strumenti per fare tracciabilità e rintracciabilità, quindi possiamo chiaramente garantire il consumatore. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di dare fiducia anche alla ricerca, c'è bisogno di dare fiducia al settore, all'agricoltore, a chi produce, ma è importante dare fiducia anche alla ricerca. Un tema molto importante è quello legato all'impiego del semi certificato e l'elemento cardine perché la ricerca in qualche modo va finanziata, è come lo sviluppo di un modello nuovo di macchina. Ci sono degli investimenti, noi per sviluppare una varietà di grano impieghiamo dai 10 ai 12 anni, quindi immaginate il lavoro che c'è dietro allo sviluppo di una varietà. Però noi crediamo che l'impiego di semi certificato sia importante per diversi fattori, tutti molto importanti. Uno, tutela e assicura una maggiore resa ma anche una maggiore qualità della produzione e quindi valorizza ulteriormente il made in Italy, assicura la tracciabilità delle produzioni, è l'unico modo che abbiamo per tracciare la produzione dal campo al consumatore e salvaguarda un settore strategico, quello del frumento duro, è l'ultimo settore sementiero italiano ancora vitale. In tutti gli altri settori siamo completamente dipendenti dall'estero per quanto riguarda la produzione di sementi, quindi è un settore molto importante. L'esclusione dell'impiego di semi certificato rischia di ridimensionare il comparto e di peggiorare le caratteristiche qualitative e produttive con ripercussioni negative anche sulla strategia di valorizzazione dei prodotti trasformati. Per finire volevo citarvi l'esempio francese. La Francia su questo tema ha fatto dell'accordo interprofessionale, dell'organizzazione della produzione in classi di qualità, dello stoccaggio differenziato e della ricerca avanzata i pilastri del settore cerealicolo. In Francia la ricerca delle nuove varietà viene finanziata non solo dalle royalties, cioè dai diritti del costitutore, ma anche dagli agricoltori. Come? Con il contributo volontario obbligatorio. È un contributo che gli agricoltori che aderiscono all'accordo interprofessionale versano consegnando il grano al centro di stoccaggio. Sono 7 centesimi per quintale. Nel 2015 la Francia ha raccolto quasi 26 milioni di euro da questo finanziamento. 11 milioni di euro sono tornati agli agricoltori che avevano utilizzato le sementi certificate. Una parte è andata all'industria privata delle sementi francesi e circa 2 milioni di euro sono andati alla ricerca pubblica. Noi abbiamo bisogno di un sistema del genere. Grazie. Passiamo adesso agli interventi degli onorevoli colleghi. Se ci sono, prego, onorevole Lupo. Grazie per le informazioni che ci ha fornito oggi in Commissione. Volevo qualche ulteriore chiarimento. Siccome la normativa prevede, se non mi sbaglio, che la percentuale di proteine per la pastificazione non sia inferiore al 12 o al 13? La legge dice che non deve essere inferiore al 10,5%. A 10,5 era. È un buon grado, secondo lei, quindi al di sotto di questo 10,5. Non sarebbe mai possibile fare una buona pastificazione? Prima domanda. La seconda. Qual è il livello superiore a questo 10,5 per cui la proteina già è adeguata se è valida, appunto se il glutine è adeguatamente valido. E poi ha fatto riferimento a dei progetti finanziati per quanto riguarda le micotossine, il controllo delle micotossine. Io so che svolgete a livello nazionale un controllo proprio su tutto il territorio e vorrei capire se è possibile avere anche gli ultimi dati aggiornati per quanto riguarda i valori sul nostro territorio nazionale. O se quest'anno è partita questo tipo di indagine, oppure no, che livelli di controlli avete effettuato, a chi vi appoggiate per poter fare questa tipologia di controllo, perché è importante arrivare a capire se il monitoraggio è realmente corretto sul territorio nazionale dopo tutto quello che appunto si sente tramite i giornali. Inoltre le volevo chiedere se i livelli, secondo lei, presenti, attuali per quanto riguarda il settore Italia e le micotossine sono realmente adeguati. Perché ad esempio noi abbiamo proposto di fare una revisione da questo punto di vista in un'altra risoluzione, poiché ci risulta che questi quantitativi, a parte che non includono tutte quelle aflatossine che sono di nuova generazione e nuove scoperte, ma al di là di questo vengono valutati su una persona ovviamente adulta, quindi di circa 70 chili, e per un consumo di pasta pro capite che in realtà non è quello realmente, diciamo che sia realmente in Italia, ma è fatto proprio per il contesto europeo, per cui in realtà il nostro consumo è un po' superiore e ci chiedevamo se appunto voi aveste dei dati al riguardo. La ringrazio. Bene, onorevole Romanini. Grazie Presidente, ringrazio anch'io l'audito per il puntuale resoconto dei problemi principali che riguardano il settore. E mi rifaccio, poi la mia è una domanda molto semplice, secca, però non posso far a meno di richiamare la correttezza degli inviti che sono arrivati dal professor Pecchioni, che ha richiamato la necessità, facendo degli esempi anche con nella situazione francese, dove questo tema che oggi stiamo sperimentando in Italia, degli accordi di filiera, dei contratti di filiera, dei contratti di coltivazione, hanno trovato un quadro organico in organizzazioni interprofessionali che funzionano da tempo e che hanno portato a risultati di maggiore certezza perché riguarda il settore primario. Devo dire che io provengo da una regione nella quale questo tipo di sperimentazioni, l'Emilia-Romagna, soprattutto attraverso accordi sul grano duro, di qualità, con l'industria di maggiore spessore, la barilla, stanno raggiungendo risultati importanti perché siamo al decimo anno e hanno riguardato un numero consistente, stiamo parlando di 120.000 tonnellate, quando si era partiti dieci anni fa con 30.000 tonnellate, quindi rappresentando più di un terzo del valore complessivo del grano duro prodotto in Emilia-Romagna, che attraverso questo sistema di accordi all'interno della produzione nazionale ha visto crescere in modo significativo la sua incidenza e la sua percentuale nel settore. Quindi per sottolineare che sono attività, che sono accordi che sono molto importanti per arrivare ad un risultato. Ciò nonostante pare di capire, perché abbiamo incontrati tutti, che anche questi provvedimenti e questi accordi con i livelli di prezzo che abbiamo raggiunto quest'anno non sono stati, non sono sufficienti a garantire una giusta remunerazione al settore primario. Lei è partito parlando di corretta rotazione, quindi apporto di azoto attraverso le guminose, eccetera. La mia domanda specifica, dopo aver sottolineato appunto l'importanza di arrivare a costituire delle OI, come in altri Stati e come la legge nostra ha definito per bene lo scorso anno, è il tema della rotazione di un settore, ahimè, in crisi, ma che potrebbe rappresentare ancora qualcosa, se destinato non alla produzione di zucchero, ma come si sta facendo, verso molecole di chimica verde, eccetera, è la rotazione con la bababietola da zucchero. Se in questo campo voi avete sperimentato qualcosa, mi pare di aver letto di esperimenti anche interessanti che sono stati condotti in Veneto e forse anche in Emilia Romagna, e cosa ci può dire al riguardo. Grazie, onorevole Abbate. Grazie Presidente, ringrazio il Dottor De Vita per l'ottima audizione e anche l'ottimo documento che ci ha lasciato. Io voglio fare alcune domande che sono quelle che circolano un po' tra i vari produttori, quindi per cercare di avere una risposta dal mondo della scienza corretta e quindi evitare anche che circolano informazioni sbagliate. Una riguarda quello della qualità del grano canadese. Molti produttori italiani dicono che il Canada riesce a raggiungere livelli proteici alti anche perché fa un uso di glifosate in un momento particolare della crescita del grano, quindi bloccando poi così il livello di proteine alto, ottenendo quindi quella quantità di proteine necessarie per la commercializzazione. Quindi vorrei capire se è vero questo oppure se è una delle informazioni che circolano così, ma che non hanno basi scientifiche. E poi volevo chiedere anche se non ritenete opportuno valutare la qualità delle granelle, quindi dare un giusto pezzo della granella anche non solo sulla quantità di proteine, sulla qualità del glutine, ma anche magari sulla presenza di micotorsini, gliposate, metalli pesanti e radioattività. Quindi se è il caso di creare una griglia di valutazione anche andando a valutare la presenza di questi elementi, oppure se dal punto di vista scientifico in realtà questa cosa non sta in piedi. Grazie. Onorevole Terlusi. Sì, ringrazio anche io il dottor Di Vita. Io ora ho una specifica di tipo più tecnico. Lei parlava del fatto che non sempre c'è una correlazione precisa tra azoto somministrato e quantità proteica, volevo capire, e quantità di proteine all'interno della granella. Volevo capire la differenza, diciamo così, di questo comportamento all'utilizzo di concimi organo minerali, concimi minerali o sovesci, quindi concimi, diciamo, l'utilizzo di sostanze organiche appunto per l'apporto di azoto. Grazie. Oliveri. Chi parla? Signor Presidente, nel corso delle audizioni abbiamo avuto occasione di incontrare diversi soggetti, diversi, diverso operatore della filiera, diciamo, serialicola. In una occasione, nel momento in cui abbiamo fatto presente che il grano italiano costava troppo poco, 5 kg di grano duro per un caffè, 6 kg di grano tenero per un caffè, insomma, qualcuno ci ha fatto capire che probabilmente, anzi, secondo loro, per fare una buona pasta occorreva del grano non italiano e canadese, in modo particolare. Ora, i dati scientifici che il CREA ci porta ci fa capire anche che il grano italiano è di ottima qualità, basta capire un pochettino la presenza, non solo il tenore proteico, 12,3, insomma, la presenza della frutassina, la sicurezza igienico-sanitaria, i metodi di produzione, ci fanno capire che tutti questi elementi, che probabilmente il grano italiano, se non è migliore degli altri grani, sicuramente è a un livello qualitativo particolarmente alto, competitivo e che probabilmente, questo lo aggiungo io, non lo aggiunge né il CREA né tantomeno, diciamo, quella parte della filiera che contestava la bontà del grano italiano, che probabilmente si trattava di un lavoro che veniva fatto contro il grano italiano per abbassare il prezzo e per creare, diciamo, un sistema di importazione superiore da quello che normalmente c'è in Italia. Ora, vorrei chiedere al dottor De Vivo, che rappresenta il CREA e che per noi è, diciamo, l'istituto più importante per quanto riguarda, diciamo, il sistema di studio dell'agroalimentare italiano, vorrei chiedere se le considerazioni che abbiamo qui esposte e che quindi il grano italiano è di una qualità ottima per fare una pasta competitiva, ottima e richiesta in tutti i mercati, se è vero, oppure per fare la pasta buona occorre per forza il grano non italiano. E qui vorrei chiedere una conferma di questa tesi. Grazie. Grazie, onorevole Mongello. Sì, giusto qualche osservazione sulla qualità del grano italiano, mi ha preceduto il capogruppo, quindi io non ci ritorno. C'è un dato che voi avete fornito come CREA oggi, che mi pare interessante, la quantità di proteine del grano italiano. Cioè dal 2008 al 2015 è pressoché costante, quindi questo smentisce la tesi secondo la quale ci sono anni alterni sulla qualità delle proteine. Dal modulo che voi fornite, le proteine sono rimaste costanti dal 2008 al 2015, intorno alle 12 e mezzo, 13. C'è un altro dato che fornite oggi e che, devo dire, è molto interessante, riguarda la quantità di grano importato. Allora, due sono le cose. Quando produciamo molto, si dice che le nostre proteine sono scadenti e non mi pare che il CREA possa confermare questa tesi, anzi conferma l'esatto contrario. Tra le altre cose, produciamo di più e, guarda caso, abbiamo importato esattamente il doppio. Quindi questa tesi smentisce un po' la tesi anche di alcuni auditi in questa Commissione, secondo le quali noi aumentiamo l'import quando produciamo di meno e aumentiamo l'import quando noi produciamo grano scadente e lo mischiamo per necessità tecnica, così si dice. Allora, a suo modo di vedere, a che punto, insomma, questa pasta si incolla, come dicono loro, a quale numero di proteine si incolla. Secondo punto, a 100 gradi, quando noi facciamo essiccare la pasta, siccome non la facciamo più trafilata a mano, queste proteine non vanno a disperdersi, quindi non si perde quello che è il requisito iniziale. Altra domanda che le faccio, sempre sulla qualità delle proteine, lei ha parlato non solo di proteine, ma anche della qualità vegetale. E allora, il CREA non potrebbe consigliare agli stessi agricoltori un tipo particolare di seme e indirizzare gli agricoltori ad una particolare qualità, proprio per elevare anche tutte queste caratteristiche e poter produrre pasta di qualità, approfitto della sua presenza. Ma le risulta che il glifosato presente nel grano si presenta come residuo anche nella pasta? Grazie. Non ho altri interventi. Le passerei la parola ricordandole che se non è in grado in questo momento di rispondere a tutti i quesiti posti, può integrare le sue osservazioni anche in forma scritta. Va bene, grazie Presidente. Grazie per le domande che mi permettono di chiarire ulteriormente alcuni aspetti. La premessa è che non c'è una verità, diciamo, generale. Per fare una buona pasta, adesso lo vedremo, ci sono tanti fattori, tutti molto importanti, adesso vedremo. Cominciamo con l'Onorevole Lupo. La legge italiana dice che la pasta per poter essere commercializzata deve avere un contenuto proteico non inferiore al 10,5%. Sì, le proteine sono importanti, per cui se scendiamo troppo in giù noi non riusciamo a fare una pasta, diciamo, di buona qualità, che tiene la cottura. La pasta al dente è il fiore all'occhiello della pasta italiana. Noi siamo conosciuti nel mondo per un certo modo di fare la pasta, per cui, oltre a un certo limite, sicuramente, per quanto la tecnologia di pastificazione abbia fatto degli enormi passi avanti in questo settore per migliorare il livello e quindi fare della pasta di buona qualità, anche con semole, diciamo, ai limiti di legge, la proteina comunque è importante per trattenere l'amido e evitare che la pasta tenga la cottura, insomma. Quindi, sì, oltre a un certo limite in giù non si deve scendere. Qual è il livello ottimale? È una combinazione di quantità e qualità di proteina. Quindi se io ho, paradossalmente, la crusca che deriva da una varietà che ha il 15% di proteine, non è pastificabile. La crusca noi non la pastifichiamo, non riusciamo a farci nulla, non riusciamo ad impastarla, pur avendo le proteine. Quindi è importante, è una combinazione dei due aspetti. Di qui la concertazione che deve avvenire a livello, diciamo, di filiera non è sufficiente soltanto. Posso fare una pasta eccellente, di eccellente qualità, col 12,5% di proteina nella semola, se c'ho un glutine tenace che risponde, diciamo, bene alla lavorazione. Posso fare una pasta scadente se c'ho il 17% di proteina, ma c'è un glutine debole che si appiccica vicino ai macchinari, non riescono a lavorarla. Quindi è una combinazione dei due aspetti, è fondamentale, diciamo, questo tema. Quindi non c'è un livello specifico, per cui o sotto o sopra, ma è una combinazione dei due aspetti. Micotossine, sì, il CREA ha coordinato negli anni, prima il progetto Micocer, e poi recentemente, 2010-2013, il progetto Micoprincere, un'attività di monitoraggio coinvolgendo tutta una serie di istituzioni, CNR, università, regioni, centri di stoccaggio, per monitorare la produzione di frumento italiano per livelli di donna e anche di micotossine emergenti. I risultati sono quelli, diciamo, un po' attesi, cioè che i problemi più importanti si scontrano nelle aree del centro nord, dove l'andamento climatico, diciamo, sottopone la cultura a uno stress molto importante, quindi l'infezione di Fusarium viene favorita in quegli ambienti e in alcuni anni, in alcuni anni, non sempre, può rappresentare, diciamo, per alcune partite può rappresentare un problema proprio di superamento dei limiti. Riguardo i limiti, i limiti li fissa la legge, è chiaro che noi ci dobbiamo attenere ai limiti fissati dalla legge. Diciamo, da questo punto di vista dobbiamo dire che la gran parte della produzione italiana comunque, diciamo, è sotto, abbondantemente al di sotto, diciamo, di questi livelli. È chiaro che bisogna stare molto attenti e bisogna vedere, appunto, diciamo, monitorare le materie prime, le italiane e quelle importate. Quindi sui limiti è chiaro che l'ideale sarebbe non averle proprio, le micodossine, no? E lo sviluppo e il tentativo che stiamo facendo con la ricerca genetica va in quella direzione. Anche il Canada sta lavorando molto in questa direzione e qualche anno fa abbiamo sviluppato un progetto bilaterale in comune con il Canada perché siamo interessati tutti e due, diciamo, a tenere bassi i livelli di micodossine nel frumento perché chiaramente per loro si apre uno scenario molto più importante e per noi saremo molto più garantiti. Passo all'onorevole Romanini. Gli accordi non sono sufficienti. Gli accordi funzionano ma riguardano una piccola parte, diciamo, della produzione. È un esempio che funziona. Gli agricoltori quest'anno che hanno aderito al contratto hanno spuntato dei prezzi, diciamo, importanti, significativi rispetto, diciamo, al mercato comune ma restano confinati a nicchie di mercato e bisogna, diciamo, in qualche modo incentivarli. La barbabietola è un'ottima precessione culturale. È un'ottima precessione culturale. Noi nel tavoliere delle Puglie, fin quanto c'è stata la possibilità di coltivare diciamo, la produzione era eccellente ma se noi guardiamo a lungo termine l'ingresso delle leguminose, diciamo, a pieno titolo ci dà garanzia, diciamo, di futuro per quanto riguarda la qualità del frumento duro. L'onorevole Labbate. La qualità del grano canadese dipende dall'uso del glifosate? No, non dipende dall'uso del glifosate. Il Canada ha condizioni geografiche per cui la produzione massima non supera le due tonnellate e mezzo quindi stiamo parlando di produzioni molto basse e voi sapete che produzione e contenuto proteico hanno una correlazione negativa quindi, diciamo, è un ambiente predisposto così come l'Australia coltivano il grano sul deserto, in asciutto le proteine sono alte, producono poco quindi non è perché utilizzano il glifosate e fanno delle proteine alte è vero però che in alcune stagioni usano il glifosate per portare il grano a maturazione. Onorevole Carusi La correlazione tra la dose di azoto somministrata e le proteine si somministra azoto in varie forme e la pianda lo utilizza in maniera più o meno rapida in funzione della forma con cui l'abbiamo somministrata per cui se è minerale lo utilizza subito se è organica lo utilizza più lentamente la somministrazione di azoto organico però e quindi rientra in una strategia di gestione dell'azienda a lungo termine quindi io non concimo con concimi organici pensando non alla produzione di quest'anno ma alle produzioni, diciamo, degli anni a venire quindi è importante perché? Perché la cessione dell'azoto organico alla pianta è molto più lento quindi funziona l'importante è avere azoto ma interagisce con l'ambiente così come interagisce l'azoto minerale cioè l'effetto dell'ambiente comunque è determinante sia che utilizzi una concimazione a base di azoto minerale che a base di azoto organico l'onorevole Oliverio il grano duro italiano è di ottima qualità e io nel rapporto che vi ho consegnato ho voluto evidenziare questo fatto che non possiamo ridurre la produzione del frumento duro italiano non è possibile la media negli anni è rimasta costante ma è la media sono le classi, sono gli estremi che variano di anno in anno e qui molto dipende dal clima il report fa riferimento all'annata agraria 2015 quest'anno chiaramente registriamo una riduzione di proteine dobbiamo dirlo la classe il minimo è più basso degli altri anni ma ci sono anche livelli maggiori come tutti gli anni c'è una gradualità di contenuto proteico l'importante è tenerle differenziate perché c'è la stessa variabilità che voi osservate se andate nel settore della pasta in un supermercato i pacchi di pasta non hanno tutti il stesso livello di contenuto proteico si parte dall'11% e si arriva al 14,5-15% significa che si parte da materie prime con contenuti proteici differenti non è che la pasta che noi mangiamo ha tutto lo stesso livello di proteine in funzione dei formati della destinazione hanno livelli proteici differenti però è troppo riduttivo ridurre la qualità del frumento la definizione, la qualificazione della qualità del frumento duro ad un numero così come è riduttivo dire che quest'anno è stato un anno molto produttivo è vero abbiamo avuto dei record di produzione storici quest'anno in provincia di Foggia sono state superate le 10 tonnellate ettaro è cosa incredibile non era mai successo sono livelli del centro-nord Italia ma è anche vero che nello stesso meridione d'Italia in alcune aziende non hanno fatto più di 20 quintali ettaro chiaramente io mi metto nei panni di quell'agricoltore che con questo prezzo e con quella produzione diciamo ha preso i soldi dal suo portafoglio e ha dovuto pagare i costi di produzione infine l'onorevole Mongello sì diciamo il valore medio in parte ho risposto diciamo prendendo a riferimento la domanda dell'onorevole Oliverio non possiamo appunto generalizzare ridurre ad un numero la definizione della qualità del grano duro italiano importiamo tanto grano sì ne importiamo moltissimo perché esportiamo chiaramente molta pasta il fiore all'occhiello diciamo del mettenidale questo deve essere un orgoglio perché noi insieme alla pasta poi veicoliamo altri prodotti con la pasta con la pasta con la produzione italiana utilizzando differenziandola per classi di qualità si può fare la pasta di tutti i tipi quindi da pasta con qualità eccezionale a paste diciamo meno performanti la tecnica di pastificazione aiuta molto lo dicevo prima fortunatamente sono rarissimi gli impianti che utilizzano le alte temperature fino a 100 gradi di essiccazione oggi diciamo il sistema di produzione della pasta diciamo raggiunge dei livelli molto più compatibili diciamo con la qualità organolettiche del 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 per preservare diciamo le qualità organolettiche della della pasta ma è anche vero che per esaltare i profumi e le specificità diciamo il valore nutrizionale della pasta più abbasso la temperatura e più esalto il livello diciamo della materia di qualità della materia prima le liste di orientamento varietale servono agli agricoltori per fare la scelta giusta varietale sia dal punto di vista produttivo che qualitativo in funzione della zona noi osserviamo che le varietà per le varietà ma non solo per il grano duro per tutte le specie agrarie c'è una forte interazione con l'ambiente di coltivazione per cui la varietà che va bene a Foggia non va bene a Ferrara e quindi diciamo bisogna in qualche modo questa rete aiuta gli agricoltori a fare la scelta giusta per quanto riguarda i residui di glifosate è una pratica ammessa in alcuni diciamo in molti stati tra cui per esempio il Canada per in alcuni annati agrarie aiuta a portare a maturazione il frumento duro però devo dire che è una pratica ammessa pure in Italia anche in Italia ammessa l'utilizzo diciamo di glifosate sette giorni prima del raccolto fortunatamente non ce n'è bisogno e non viene utilizzato come esperienza Crea non abbiamo esperienze dirette diciamo di analisi fatte al Crea leggiamo le indagini fatte sulla stampa e effettivamente in funzione diciamo di quello che riporta appunto la stampa i residui ce ne sono sebbene diciamo abbondantemente al di sotto dei limiti diciamo ammessi quindi dal punto di vista della diciamo della salute dei consumatori non c'è nessun tipo di problema grazie nella sua replica ha fatto riferimento anche a un'attività svolta dalla Crea rispetto a un monitoraggio sui sistemi di stoccaggio cosa è emerso rispetto a questo perché un altro tema che è emerso durante le audizioni è che in annate di buona produzione come quella di quest'anno il sistema degli stoccaggi è inadeguato soprattutto per quantità qual è la situazione in possesso di Crea si no il Crea ha coordinato un'attività di di rete di strumenti per la determinazione dei parametri qualitativi perché la cosa più importante per organizzare una filiera e ridare fiducia al settore è avere fiducia diciamo degli operatori per avere fiducia l'agricoltore che consegna il grano a un centro di stoccaggio deve essere sicuro che quel centro di stoccaggio rileva i parametri qualitativi in maniera oggettiva quindi senza nessun quindi se c'è un organo che coordina la rete di strumenti diciamo distribuendo le rette di calibrazione in modo che come dicevo prima 13% di quel grano raccolto a a Milano sono diciamo paragonabili al 13% del grano raccolto in Sicilia è importante che ci sia un coordinamento di strumenti calibrati altrimenti diciamo è impossibile giudicare in maniera imparziale la qualità del frumento duro è evidente che il discorso invece è legato alla difficoltà di organizzare lo stoccaggio perché questo è un dato strutturale diciamo lo sappiamo bene ma la cosa diciamo importante è che ci sono molti stoccatori improvvisati noi in molte zone osserviamo ancora montagne di grano raccolti diciamo all'aperto e questo diciamo per garantire la qualità non è il modo migliore per organizzare lo stoccaggio quindi sì c'è bisogno di una migliore organizzazione dello stoccaggio miglior controllo cioè far fare lo stoccaggio a aziende che abbiano i requisiti per poterlo fare grazie prego grazie presidente rapidamente dato che parliamo di stoccaggio ci segnalano diversi silos che sono in disuso specialmente proprio nella zona del Foggiano è possibile riutilizzarli magari modernandoli oppure si è costretti a costruire dei nuovi silos per lo stoccaggio io penso che dobbiamo partire da quello dalla ristrutturazione di quello che abbiamo grazie bene se non vi sono altri interventi io ringrazio il dottor De Vita per contributo utilissimo che ha portato anche ai nostri lavori e a chiarimento anche come emerso negli interventi di tanti colleghi di dubbi insomma che erano emersi durante lo svolgimento di altre audizioni quindi è stato un passaggio molto utile rispetto a l'orientamento che vorrà prendere questa commissione di nuovo grazie dichiaro concluso l'audizione grazie a tutti grazie a tutti